Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Clash Royale Secondo voi, così ad occhio e croce, che cosa faremo in questo video? Mi sembra ovvio signori, faremo il Mega Opening Chest Ricapitoliamo un secondo che cosa spacchettiamo Oltre alle Free Chest, la Gold e la Crown Abbiamo un baule gigante di Arena 9, droppato da un po' di tempo Che era qui fermo nelle nostre slot, pronto per un opening chest un po' più interessante Il baule leggendario, signori, droppato qualche giorno fa Seguito subito dal baule epico Quindi veramente apriamo di tutto oggi E doniamo anche, già che ci siamo, così farmiamo ora a manetta Allora, non dilunghiamoci, partiamo subito con le Free Chest Tanto per scaldarci un pochettino, un 79 di oro, un 2 gemme, una capana barbara e 10 orde di sgherri Passiamo adesso al secondo, signori, con 79 di oro, una lapide e 10 scheletrini Adesso, prima di procedere con il Gold, cominciate a scrivere qua sotto nei commenti, senza barare Mi raccomando, secondo voi qual è la leggendaria che troveremo in questo baule? Ditelo signori, non nel baule d'oro, intendo nel baule leggendario ovviamente Poi per carità, se troviamo una leggendaria qua nel baule d'oro, non mi lamento, eh Allora, 220 di oro, adesso voglio la leggendaria 3 Goblin 12 sgherri, qualcosa vi dice che la leggendaria non la troviamo 19 Goblin lanceri E 4 mini pecca Che strano, pensavo di trovare la leggendaria io Signori, ma qua si sale subito con la roba più interessante Andiamo adesso con la Crown Chest Tra le carte che mi servono di più al momento, di sicuro ci sono i Mega Sgherri Perché li sto cercando di portare a livello 8 anche loro Quindi se per caso dovessero uscire anche magari nel baule gigante Non mi farebbero schifo Ma comunque sia, torniamo all'opening chest Guardiamo un pochettino che cosa esce Subito un 556 di oro, molto bene Farmiamo anche un bel po' di oro, così livelliamo qualche carta 2 gemme 33 tesla, ottimo Mi piace quando le comuni sono molte Perché vuol dire che seguiranno altre carte interessanti Come 34 ore di sgherri Le rare, signori, 8 domatori Quindi qua c'è la leggendaria o la epica Se c'è la leggendaria della Crown Chest, signori Ok Barile Goblin E da un po' che non lo trovavamo il Barile Goblin Siamo a 15 barili su 20, signori Cioè, non so se ve lo ricordate Ma, tipo nel mio primissimo baule super magico Avevo trovato qualcosa come una ventina di Barili Goblin Infatti è una carta che ho livellato veramente molto Ma non utilizzo Quindi mi spiace Barile Signori, mancano ancora 3 bauli E sono tutti bauli stra interessanti Quindi allora io cerco di dargli un ordine Dal meno importante al più importante Anche se in realtà sono tutti veramente molto allettanti Allora, io partirei dal gigante Perché vorrei aprire l'epico e il leggendario assieme Siccome comunque fanno parte, diciamo, dello stesso pacchetto E li ho trovati uno dopo l'altro E che tra l'altro alcuni di voi mi hanno detto Che hanno trovato solamente il leggendario E dopo non hanno trovato quello epico Sinceramente non so il perché Io avevo una slot libera Dopo ho fatto subito un'altra battaglia L'ho subito vinta E l'ho subito droppato Quindi può essere quello? Non lo so Ma comunque sia Partiamo con il baule gigante, signori Una tonnellata di oro 1904 Oh mio Dio Primo skip Troviamo subito 132 giganti royale Ottimo Secondo skip 142 bombaroli Ok, questa è una carta che in effetti mi serve Perché la sto utilizzando Ormai sta diventando un pochettino come il gigante Una delle mie carte preferite Perché la usano in pochissimi È sottovalutata da morire E mi ci trovo stra bene a giocare Ma andiamo con l'ultimo skip, signori Mi aspetto una rara Potrebbe essere il megasguerro La torre inferno Qualcosina di figo 30 domatori, signori Signori, 30 domatori E questi che ci chiedete no Me li dono tutti Perché ho il domatore E non lo voglio livellare Ok? Scrivetemi un motivo Qua sotto nei commenti Per il quale io dovrei livellare il domatore Con tutto l'odio che provo per lui Comunque sia Nel frattempo Eccoci arrivati Ai due fantomatici bauli Non speravo veramente più di dropparli Perché si sono fatti aspettare Veramente molto Allora Innanzitutto Io direi di aprire il baule epico Dove ovviamente Spero di trovare La carta nuova Il tornado Ma aspettate Si chiama tornado A proposito Si si chiama tornado Mi era venuto il dubbio Perché proprio Non l'ho mai trovata in vita mia E poi voglio dire Una epica Cioè potrebbe anche uscire Nello shop Però vabbè Partiamo subito Attenzione Subito un principe Ok Quindi adesso ci mancano Un po' due skip Qua ce ne abbiamo trovato Solo uno signori Quindi Credo di trovare più epiche Negli altri In teoria dovrebbero essere 4 e 5 Vediamo un po' Secondo skip Due bocciatori Quindi in teoria Abbiamo 7 epiche Adesso Mi sembra strano Ma Vediamo un pochettino Ultimo skip Signori La gelo 7 gelo Oh mio dio La possiamo fare a livello 4 Peccato Nessunissimo Tornado Però comunque sia il bocciatore Se non sbaglio Abbiamo questo bel Chiodec Che abbiamo visto Qualche episodio fa Che Appunto ha bisogno Del bocciatore Perché è molto forte Quando l'avrò A livello 4 Sicuramente Lo riutilizzerò Un pochettino Nel frattempo Doniamo di nuovo E adesso È arrivato il momento Non so chi di voi Prima ha commentato Qua sotto Dicendo Che leggenda Avete trovato Potete ancora farlo Sono gli ultimi secondi Se ci avete azzeccato Signori Siete dei veggenti Veramente Allora io direi di partire 3 2 1 E Sparchi signori Sparchi Cazzo si Oh Signori La sparchi Oh Mio dio Da quanto tempo Ma da quanto tempo Signora Sparchi La stavamo aspettando Ma come sta Signora Sparchi Oh Veramente Signori Non mi sembra vero Ve lo giuro Adesso in pratica Ci mancano 3 carte Legendarie Beh La ta 4 Perché ne sta per uscire Una nuova Però Va benissimo Anzi Adesso Andiamo anche a provare Nel nostro deck Eh Sì Ma cosa posso togliere L'unica è il bombarolo Ne ho parlato bene Un secondo fa Però devo per forza Sostituirla col bombarolo Perché Veno male Fanno entrambi Dei danni Ad area E quindi L'unica è sostituirla col bombarolo Perché le altre carte Mi servono troppo C'erano anche gli spiritelli In alternativa Lo so Però il problema Dello spiritello È che C'è il problema Il pregio Dello spiritello È che becca anche Le truppe aeree Quindi l'orda di sgherri In genere la faccio fuori Con lo spiritello Comunque sia Io dovrei provarla così Proprio a bruciapelo In live Come sempre E Ovviamente Non l'ho mai utilizzata A un costo alto Quindi prevedo Un brutto fail Però Signori Non facciamo Previsioni azzardate Proviamoci Come sempre Allora Un livello 10 Che si chiama Fanto Gamer Degli Uquateri Uquateri Va bene Stavo per leggere Uquateri Parte subito Con una Princi Troia Ok Scusate Se l'ho chiamata Princi Troia È Una brutta abitudine Che mi hanno dato I miei compagni di clan Subito Una bellissima E interessantissima Torre Inferno Maledetta E E Qua c'è un domatore Attenzione al domatore Signori Andiamo con una bella Fireball Per fermare I bollenti Spiriti Del domatore Di cinghiali E vediamo Di piazzare Adesso Questa Maledetta Sparchi Allora Vediamo un pochettino Io direi Di partire Da destra Perché tanto Oh attenzione Guardate lì La principessa Di nuovo Lei A rompere Le balle Allora La facciamo fuori Questa volta Con il mega Sgherro Lei ci Cioè lei Lui ci butta Gli arcieri Perché L'ho dato De lei Non lo so Ok Direi Oh mio dio Fireball Sul Sparchi Maledetto Vai Sparchi Fondi Quelli stupidi Arcieri Grazias Guardate Guardate Il tronco Maledetto Non ci posso credere Tra un po' Mi distrugge La Sparchi Così Ma che brutta Cosa Signori Allora Vediamo un po' Oh La sua Torra infernale Si è presa Un po' Di botte Giusto Un po' Di botte Oh mio dio Che figata Adoro Questa carta Signori Adoro Questa carta Ok 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 Il gigante Sta facendo un po' Di hit Bravo Gigante Guardatelo lì La Sparchi Appena fatto il suo dovere Signori Non me l'aspettavo Così Così difficile Da counterare Cioè si So che è un po' Una merda da counterare Però Pensavo che con tutte Quelle Con quelle maledizioni Che ci ha tirato contro L'avversario Riuscisse appunto A fermarmelo Invece Non è stato così E mi butta anche Un bel tronco Giusto per Per rovinarmi La mia povera orda Insomma Allora Ripartiamo con Un'altra scintilla Da qua Ok Lui riparte Con il maghetto Di ghiaccio Va bene Puoi fare un pochettino Che cazzo vuoi Per me Ok Fireball Ok Perfetta anche la fireball Andiamo con Il finimondo Dai Andiamo con Una bella zap lì Ok Andiamo con La Ehm Gli spiriti Di fuoco Ok Sparchi Perché Se è così In ritardo Non va bene Non va bene Allora Vediamo di Ripartire Orda di sgherri Subito Per favore Per favore Fate fuori Il domatore Ok E arriva La fireball Puntuale Ok E arriva Anche il tronco Puntuale Che mi Sciotta Quasi la Sparky Ma che brutta Cosa Ma che brutta Cosa Sparky spreca Un colpo Sulla principessa Giustamente Io a sto punto Ci butto Una Zap lì Ok Andiamo con Un altro Un'altra Sparky Andiamo pure Con Gli spiritai di fuoco Su Come si chiama Non mi viene in mente Il nome Signori Ok Nel frattempo La partita è andata avanti Io mi sono inceppinato Inceppinato Vabbè Mi sono inceppato a parlare Signori Stai pazzendo Aiuto Quel domatore Sta facendo I disastri I disastri Nucleari Proprio Ok 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 Andiamo con La Sparky Di nuovo Andiamo con I nostri carissimi Spiritai di fuoco Una bellissima Orda Che non fa mai schifo E guardate La Sparky Mamma mia Signori Che cacchio Di colpo Già tirato Oh Signori 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 Da Sparky Mi piace Parecchio Ancora una vittoria Signori E arriviamo 3500 coppe Siamo in record Adesso arriviamo 3500 coppe Nel frattempo Mettiamo ad aprire Così Il silver chest Che abbiamo sbloccato Giusto nella partita Vinta poco fa E nulla Direi che per questo video Siamo giunto al termine E a questo punto La Sparky La provo ancora un pochettino Perché è parecchio forte E in effetti In questi giorni C'è una modalità Dove si potrebbe utilizzare La Sparky Con molto piacere Non spoileriamo Non spoileriamo Signori Ne parleremo In un prossimo video Piuttosto direi Che per questo video Siamo giunto al termine Io come al solito Vi ringrazio Per tutto il sostegno Che mi date sempre Vi invito a fare un salto In descrizione Per passare sui social Telegram Instagram Facebook Twitter Non che il mio profilo Privato Facebook Per potermi sfidare Qua su Clash Royale E nulla signori Direi che appunto Con questo ci salutiamo Ci da un appuntamento Sempre domani Sempre alle 5 Sempre con un nuovo video Gente Vi saluto Ciao a tutti Ciao a tutti